Musica Sono arrivati anche quest'anno da tutta Italia i 200 artisti che hanno partecipato alla 43esima edizione del concorso La Margherita d'Argento, 40esimo trofeo Achille Medri, riservato da opere di pittura, piccolo formato e grafica acquerello ospitato nella parrocchia di San Rocco e diventato ormai da tempo un'interessante panoramica sulle ultime tendenze pittoriche del nostro paese Signor Fumana, 200 artisti hanno partecipato quest'anno, 300 le opere in concorso, una grandissima affluenza per questo premio Margherita, per questa 43esima edizione Sì, siamo come comitato veramente orgogliosi di questa grande partecipazione, sottolineo che i pittori vengono da tutte le regioni italiane Cosa che è una caratteristica che ha sempre caratterizzato il nostro concorso e questo ci ricompensa di tutte le fatiche e l'impegno che il comitato organizzatore ha profuso Comitato organizzatore che è alla base del, ricordiamo, il premio più antico d'Italia Sì, è la 43esima edizione e questo appunto si configura, come ha detto bene lei, come la manifestazione pittorica più vecchia d'Italia nata nel lontano 1975 Chi sono mediamente le persone che vengono a partecipare al concorso? Dunque, mediamente sono pittori che hanno scelto di fare questa nobile professione che è l'arte In altri casi invece si tratta di pittori che si dilettano di farlo così per pura passione Prima mi raccontava che andando in giro per le fiere, per i festival di arte, incontra alcuni dei concorrenti della Margherita che la ringraziano per questo concorso Sì, incontriamo spesso artisti che hanno partecipato a questo concorso negli anni passati e che magari hanno spiccato il volo e che adesso hanno buone quotazioni di mercato 200 artisti, quindi 300 opere per la giuria è stato un lavoro abbastanza lungo, ma com'è composta questa giuria? Dunque, la giuria è composta da Pierguido Reggini che è un giornalista di Cesena, è un critico d'arte è composta da Ario Franciosi che è l'ex responsabile delle gallerie d'arte della comune di Cesena e dal sottoscritto che sono giornalista e appassionato d'arte Che tipo di opere avete ricevuto quest'anno? Dunque, abbiamo ricevuto opere un po' di tutti i generi, cioè si passa dall'astratto informale al genere figurativo al paesaggio Vorrei sottolineare che la maggior parte appartengono o all'astratto informale o al paesaggio Un importante impegno anche grazie ai numerosi sponsor che ogni anno vi sostengono Sì, è grazie a loro che il concorso è riuscito a vivere così a lungo Quest'anno in modo particolare dobbiamo ringraziare l'Orgel, la Nericom di Cesena il Credito Cooperativo Romagnolo di Cesena, la PFG di Pedrelli e Marco, sempre della nostra città e la ditta Graziani, fratelli di Bora di Mercato Saraceno Siamo in un periodo in cui l'Italia è flagellata da mal tempo ma ci sono artisti che sono venuti nonostante abbiano percorso 600-700 km Un bel regalo per la Margherita d'Argento Sì, noi siamo abituati bene, nel senso che nonostante le difficoltà climatiche e gli artisti non rinunciano a venire al momento finale del concorso, al momento della premiazione e quindi ne siamo particolarmente grati Signora Morganti, il suo è uno dei quadri che ha vinto il Superpremio Innanzitutto, che soddisfazione è vincere questo premio? Tanta, perché qui c'è della competizione e allora è molta soddisfazione, senz'altro Ecco, lo sentiamo dal suo accento, lei viene da Pistoia Come mai ha deciso di partecipare? Pistoiesa acquisita, perché sono una pratese doc però sono una pistoiesa acquisita Come mai ha deciso di partecipare alla Margherita d'Argento? Sono anni che iniziando a fare concorsi un po' in tutta Italia questo è uno dei concorsi migliori, diciamo, in livello nazionale che sono anni che frequento questo concorso Il suo è un quadro di pittura astratta che cosa ha voluto rappresentare, che cosa si è ispirata? È una pittura molto informale, però al primo impatto dà l'impressione un po' tonnale, i colori autunnali l'ispirazione è un po' quella, anche se rimane un po' sempre una cosa molto astratta Il fatto di aver partecipato alla Margherita d'Argento e aver vinto la spingerà a partecipare anche nei prossimi anni? Oppure una volta che ha vinto, ormai ha vinto? No, senz'altro, sinceramente qui non è la prima volta e non è quello che mi ha spinto sempre a ritornare non mi fa paura neanche la neve, ho visto di solito si è trovato anche periodi con tempo molto brutto però vengo sempre molto volentieri Signor Costanzo, lei ha una vecchia conoscenza del premio Margherita d'Argento ha partecipato per la prima volta 40 anni fa, quindi quasi dalla prima edizione che cosa rappresenta per lei questo premio? Per me questo premio rappresenta un'occasione in cui uno può presentare le ultime espressioni artistiche perché gli anni passano 40 anni fa mi esprimevo in una certa maniera dopo 40 anni c'è stata tutta una serie di evoluzioni, di passaggi quest'anno mi sono presentato con questa figura rappresentando una geisha, una giapponese ma fa parte di un discorso abbastanza ampio in cui cerco sempre di stupire me stesso prima di pensare di stupire gli altri perché la pittura è fatta di rischi nel senso che ogni espressione può comportare una serie di sperimentazioni prima di arrivare a esprimersi al massimo quando si è arrivato al massimo deve ricominciare da capo fare altri percorsi per me la pittura è questa andare sempre incontro a nuove esperienze perché sempre se uno sente che ha qualcosa ancora da dire quando non si ha più niente da dire il pittore è finito Per questa figura di donna, di geisha a chi si è ispirato? Ma niente, è stato un momento mio a volte non c'è un percorso logico quel giorno, in quel determinato momento mi è uscito fuori questa cosa per me la pittura è questa non è niente di programmato e questo comporta che su dieci opere ne riescono fuori una l'altro è un po' così qualcuno è proprio da buttare l'arte per me è questa volta per volta cercare di mettersi alla prova Signor Casadio, lei è uno dei tre vincitori del superpremio è di Forlì, gioca praticamente in casa che cosa rappresenta questo premio per lei che è forlivese? Dunque, questo premio per me è molto importante intanto perché sono più di 40 anni che viene fatto e gli organizzatori sono stati talmente bravi che in questo periodo hanno avuto la possibilità di portarlo avanti anche in momenti di crisi come questi portare avanti un premio di pittura a livello nazionale è estremamente importante e interessante soprattutto per i pittori perché poi i pittori fanno delle cose e quelli che organizzano il premio non fanno altro che valorizzare il lavoro dei pittori quindi è estremamente importante per noi e per Cesena Ecco, dopo che ha partecipato la prima volta il primo anno, dopo ha deciso di partecipare sempre sei un po' affezionato Allora, io normalmente non partecipo a premi di pittura raramente ho vinto il Marco Aurelio a Roma il premio Marco Aurelio a Roma tempo fa poi dopo poi mi sono... perché il premio di pittura è una cosa un po' particolare, un po' strana poi sono stato invitato dagli organizzatori e da quella volta, avendo conosciuto gli organizzatori che sono delle persone squisite allora mi sono affezionato non soltanto al premio ma proprio anche a quelli che lo organizzano quindi io fin da ora li ringrazio Come mai avete deciso di sponsorizzare questa manifestazione? Sono ormai cinque anni che sponsorizziamo la Margherita d'Argento tutto nasce da quando siamo bambini io mio fratello, dal nono restauratore e da mio fratello che è un collezionista e ama l'arte Pedrelli, forniture grafiche di che cosa vi occupate? Noi siamo distributori, importatori di inchiostri, di vernici per l'industria grafica e soprattutto anche per l'imballaggio alimentare Grazie! 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 Grazie!